Benvenuti nel canale spettacolo 24. Canale di intrattenimento attraente e interessante. Grande notizia Buckingham Palace, proprio lei comunica la splendida notizia della sua dolce attesa. Ecco chi diventerà nuovamente mamma, tutti i dettagli a riguardo. Di chi si tratta effettivamente? Tutti i dettagli sulla gravidanza. In queste ultime ore una nuova notizia ha letteralmente conquistato l'attenzione di tutto il popolo fedele alla corona e non solo. La splendida notizia appunto ha attirato appunto l'interesse di tutti coloro che semplicemente seguono gli eventi che interessano la famiglia reale. In diverse occasioni, in questo ultimo periodo i sudditi hanno appunto notato dei dettagli che hanno prontamente fatto pensare ad una nuova gravidanza. Come ben saprete negli ultimi mesi si è parlato molto della dolce attesa a casa Middleton, ovvero della sorella della duchessa di Cambridge, Kate Middleton. La sua dolce attesa ha rincorato perfino i cuori più aspri. Inoltre, la semplice scoperta ha ridato gioia a molti, i quali appunto hanno vissuto come la stessa famiglia reale, un periodo buio dopo la grande perdita. Pare però che la sorella della duchessa attualmente non si aluna a portare in grembo una vita. Ebbene sì, in molti si sono accorti di innumerevoli dettagli che hanno letteralmente spiazzato tutti. Vediamo quindi nel dettaglio chi fi la principale protagonista della vicenda ed appunto a breve comunicherà il dolce annuncio. Splendida notizia a Buckingham Palace, proprio lei è di nuovo in dolce attesa, tutti i dettagli a riguardo questa splendida notizia ha letteralmente sconvolto tutti, come ben saprete questo annuncio, legato alla maternità della giovane Pippa, fa gioire tutti i sudditi ed i membri effettivi della Corona. Pare appunto che, la donna che attualmente mantiene un basso profilo riguardo tutto questo, sia proprio una figura di una certa importanza all'interno della famiglia reale. Per chi non lo avesse ancora capito stiamo indubbiamente parlando della famosa Kate Middleton, la quale ha destato qualche sospetto negli ultimi giorni. Ebbene sì, pare appunto che sia proprio lei ad aver nel grembo una piccola creatura. D'altronde lei ha sempre confessato di dare e voler dare alla luce un quarto figlio. Il tutto però si ricollega semplicemente ad un suo abito a qua, il quale venne indossato proprio dalla giovane duchessa per comunicare l'arrivo del piccolo George, nonché suo primo figlio, ben nove anni fa. L'averlo indossato ed il suo comportamento apparentemente sereno e gioioso hanno lasciato qualche dubbio a tutto il popolo, il quale spera appunto in un comunicato ufficiale. Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video, ciao!